Benvenuti sul mio canale. Maria De Filippi ha rinunciato all'eredità di Maurizio Costanzo. A farlo sapere la diretta interessata in collegamento telefonico a RTL 102.5, dove è intervenuta per fare una sorpresa a Checco De Modà, che ha annunciato un ritorno sulle scene musicali dopo un periodo di pausa. La conduttrice ha ammesso che non è facile per gli artisti, soprattutto i più giovani, confrontarsi con i social, dove è facile imbattersi in commenti duri, cattivi e tante fake news. La stessa De Filippi è stata coinvolta a suo malgrado in una notizia del tutto errata. Ti destabilizza quello che dicono sudite con un nome finto, abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e rispettare ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così, ha raccontato Maria un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle stronzate serie, un sacco di palle con serietà su di me. E mi sono detta, quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce, ma poi ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità. Le dichiarazioni false di quest'uomo riguardavano l'eredità di Maurizio Costanzo e il come fosse stata gestita, ho pensato di querelarlo e l'ho fatto perché penso che ci sia un limite. Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi quando ha parlato di Maurizio raccontando un'eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio, ha spiegato la De Filippi. Maria ha poi aggiunto, io ho rinunciato all'eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue. Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le palle che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone.